Attenzione alla dignità dell'altro, valore assoluto e indisponibile. Questa l'esortazione di Papa Francesco al mondo dell'impresa che per il primo giubileo dell'industria ha riunito 7000 persone in aula Paolo VI. A loro il Pontefice ha ricordato che troppi giovani sono oggi prigionieri della precarietà. Troppi anziani finiscono scartati prima del tempo, troppi madri e padri di famiglia vivono con l'angoscia di non poter dare né presente né futuro ai loro figli. Eppure ha detto sono forze che insieme possono fare la differenza per un'impresa che metta al centro la persona, mantenendo un'etica e incidendo sul tessuto sociale. Siete chiamati a tutelare la professionalità e al tempo stesso a prestare attenzione alle condizioni in cui il lavoro si attua, perché non abbiano a verificarsi incidenti e situazioni di disagio. La vostra via maestra sia sempre la giustizia, che rifiuta le scorciatoie delle raccomandazioni e dei favoritismi e le deviazioni pericolose della disonestà e dei facili compromessi. D'altra parte la realtà del mondo del lavoro oggi parla chiaro. È emerso al convegno Fare Insieme, Sviluppo, Istruzione e Lavoro, che all'Augustinianum di Roma ha preceduto l'udienza degli industriali col Papa. Marc Lazard, docente di storia e sociologia politica a Parigi, alla LUIS di Roma. C'è tutto il lavoro cosiddetto nero di gente che hanno una situazione non legale nel lavoro e questo è ormai insupportabile. Quindi ci sono regole, ci sono leggi da rispettare. Ma all'interno delle imprese, quelli che hanno un lavoro legale, è sicuro che non si può più avere un rapporto di autorità, come si dice in inglese, top down. Cioè l'autorità non viene più solamente dal capo, bisogna avere un'orizzontalità dei rapporti perché siamo cittadini con un livello di educazione molto più alto che nel passato e l'autorità non passa più come prima con un ordine e basta. Quindi il dialogo è una condizione essenziale nelle imprese. L'industria vive un momento di instabilità. L'economista Alberto Quadriocurzio, presidente dell'Accademia dei Lincei, ne spiega le ragioni. L'industria e tutta l'economia reale richiedono degli investimenti di lungo termine, essendo questi investimenti incorporanti innovazione, competenze, conoscenze e non movimenti troppo bruschi e troppo rapidi. Diversamente la finanza si muove per azioni pressoché istantanee, di brevissimo periodo e quindi si crea una sfasatura pesante tra l'industria o l'economia reale che guarda a lungo termine e la finanza che guarda al breve o al brevissimo termine. L'impegno comune è stato quello di costruire una società più giusta anche attraverso nuove occasioni di sviluppo, ne esempio la Campania, il costruttore Ambrogio Prezioso, presidente di Confindustria Napoli. Pensiamo di puntare molto sulla gamba più importante, quella di una ripresa dei giacimenti culturali, quindi il triangolo turismo-cultura, rigenerazione delle aree intorno ai siti. Noi ci stiamo occupando dell'area archeologica vesuviana, lo facciamo anche con il vescovo di Pompei, insomma stiamo collaborando con lui perché è pazzesco che quasi 5 milioni di visitatori che tra il turismo del santuario, tra il turismo del sito e il parco nazionale del Vesuvio solo il 3% rimane a dormire, vanno e vengono da Roma, vanno e vengono da Firenze, vanno e vengono alle navi crociere.